Gocce di Natale e anche al centro commerciale Diano. Entriamo a scoprire nel cuore del Vallo di Diano cosa ci aspetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al centro commerciale Diano, dal lunedì al giovedì, per un minimo di 50 euro fino ad un massimo di 150 euro di spesa potrai ritirare il tuo gadget personalizzato. Grazie a tutti. 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 Buone feste!